buongiorno il vangelo di luca quest'oggi al capitolo 10 dal versetto 17 al 24 racconta il ritorno dei 72 discepoli mandati in missione da gesù tornano entusiasti pieni di gioia hanno compiuto prodigi hanno cacciato i demoni hanno guarito i malati hanno annunciato il regno di e gesù da buon padre da buon maestro li porta da una parte e giuisce con loro è contento con loro ma poi li riporta all'essenziale a qualcosa di ben più grande che ha permesso che compiano questi prodigi ma che è il prodigio più bello i loro nomi sono scritti in cielo i loro nomi sono nel cuore del padre e accanto a loro c'è il figlio che condivide la vita con essi stessi capita insomma un pochettino come quando noi prendiamo in mano il nostro smartphone e giocando sentendoci quasi onnipotenti ci mettiamo in comunicazione con il mondo e facciamo pure le videochiamate con chi ci sta a cuore per fortuna che abbiamo avuto questa grazia nel tempo del lockdown ma immaginiamoci di stare con il nostro smartphone e improvvisamente proprio la persona che stiamo cercando di chiamare e ci compare accanto in carne ed ossa e allora e allora lo smartphone il potere di comunicare col mondo non vale più nulla perché questa persona è lì accanto a noi la possiamo abbracciare la possiamo ascoltare sentire il suo profumo guardare i suoi occhi ecco con gesù capita questo dio che ci ha dato il potere di compiere prodigi meravigliosi è invece venuto a darci il prodigio più bello suo figlio che è con noi che cammina con noi e quindi ci chiede di mettere in pratica la comunicazione più bella la fiducia l'affidamento mettersi come i piccoli come i bambini tra le braccia di gesù significa dare a Dio il potere di amarci quel potere che egli ha ma che non può esercitare senza il nostro permesso diventiamo allora anche noi discepoli capaci di compiere prodigi ma di compiere soprattutto il prodigio più bello quello di lasciarci cadere fra le braccia dell'amore che il padre ci comunica nel figlio e così ogni piccolo strumento che avremo su questa terra sarà soltanto un passaggio per arrivare alla relazione più vera quella che da sempre ci pensa ci aspetta e ci attende il nostro nome scritto nei cieli il cuore di Dio palpita e vive accanto a noi su questa terra buona giornata